Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora, iniziamo facendo la correzione di pagina 8081 del libro dello studente. L'esercizio 2, l'1 A chiede sei mai stato da Gino? E B risponde no, non sono mai stato. 2 A sei mai andato a cavallo? E B risponde sì una volta. 3 A hai mai scalato? E B risponde no, non l'ho mai fatto o non ho mai scalato. A del 4 dice sei mai andato in canoa sul fiume? E B risponde sì l'ho fatto tre volte. Poi c'era l'esercizio successivo di pagina 81. L'esercizio 5, guarda le foto e scrivi le frasi come nell'esempio. 2 dice ho fatto allenamento per un'ora. 3 dice ho giocato a tennis per mezz'ora. 4 siamo stati a Londra per due mesi. Oppure sì per due mesi va bene. Poi la 5 ho cucinato per tre ore. La 6 dice ho studiato per cinque anni o ho insegnato a scuola per cinque anni. Poi c'era l'esercizio 8 di scrivere le frasi al passato prossimo. 1 Lei ha pranzato. 2 La signora ha fatto la spesa. 3 Il ragazzo ha finito i compiti. 4 La ragazza si è messa i pattini. 5 Il bambino si è lavato i capelli. 6 Noi siamo entrati al cinema. Per oggi invece in preparazione all'esame, poi domani faremo classe, fate la pagina 88 del libro dello studente. Così domani la correggiamo. Ciao ragazzi e buon lavoro!